Presentate in mattinata le liste per le elezioni indirette del Consiglio Provinciale di Campobasso che si terranno il 31 ottobre, favorito il centrodestra che schiera due liste contro una sola vicino al presidente in carica Antonio Battista che resterà a capo di Palazzo Magno per altri due anni. La provincia di Campobasso ha sempre più in difficoltà a livello finanziario e impossibilità a garantire i fondi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza delle arterie stradali su buona parte del territorio. Si appresta a rinnovare gli organi del Consiglio di Palazzo Magno ad eccezione del presidente Antonio Battista che resterà in carica per altri due anni. Sindaci e amministratori comunali saranno chiamati al voto il prossimo 31 ottobre. In mattinata sono state presentate le liste, 29 candidati in tutto distribuiti in tre liste, due vicini all'area del centrodestra contro una sola lista di centrosinistra. Con ogni probabilità l'attuale presidente dell'ente di Via Roma si ritroverà a capo di un consiglio composto in maggioranza proprio da esponenti del centrodestra. Area politica in cui emerge sempre più il dualismo tra la fazione vicina al governatore Donato Toma e quella legata all'asse De Matteis Iorio Pallante. La prima lista è denominata Insieme per la provincia e vede al suo interno dieci candidati tra i quali spiccano i consiglieri comunali di Campobasso, Maria Laura Cancellario e Alessandro Pascale. Oltre all'ex Italia dei Valori, Simona Contucci. Ci sono anche Michele Marone e Maria Cristina Spina, quest'ultima moglie del consigliere regionale Gianluca Cefaratti. L'altra lista di centrodestra, provincia amica, schiera tra gli altri il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi e l'esponente di Palazzo San Giorgio, Enrico Perretta. Nella lista di centrosinistra, Cives, provincia democratica, sono nove i candidati tra cui i consiglieri di maggioranza al comune di Campobasso, Giovanna Viola e l'uscente Peppe Delia oltre ai due esponenti della maggioranza al comune di Termoli, Antonio Giuditta e Vincenzo Sabella. In campo anche il vice sindaco di Montefalcone nel Sannio, Gigino D'Angelo, l'assessore al comune di Guglionesi, Pino Aristotele e il consigliere comunale di Larino, Giulio Pontico.